Walter, raccontaci un po' del mottarone. Ma cos'è questo rumore che si sente? Gnoc, 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 gnoc. Sto andando sulla camera d'aria, neanche sul cooperativo. In salita, tra l'altro. A breve video integrale del fantastico love story mottarone dei... Mamma mia, ragazzi, che avventura. Una bomba, grande. Non è a terra, di più. Ma il Walter non molla, non molla, cazzo. E' un osso duro, lui.